Innanzitutto i dispositivi solitamente per salvaguardare i dati che ci sono all'interno si bloccano, hanno un'impostazione di blocco automatico. In questo caso vedete che c'è il lucchetto, solitamente per gli smartphone è sufficiente un trascinamento sullo schermo, per i tablet anche, partendo dal lucchetto teniamo premuto e trasciniamo in questo caso verso destra e vedete che c'è l'icona, il disegno del lucchetto che si apre. Così possiamo sbloccare il dispositivo ed entrare. Cosa vediamo subito all'inizio quando entriamo all'interno del dispositivo? Solitamente c'è una home che può essere anche segnalata con il simbolo della casetta e ci sono pagine laterali, solitamente due a destra e due a sinistra. Per passare da una pagina all'altra sfogliamo, in questo caso il tablet ma anche lo smartphone, tenendo premuto, se vogliamo andare a sinistra, da sinistra verso destra e quindi la pagina verrà sfogliata automaticamente, come vedete. Se vogliamo andare invece in una pagina di destra, non solo nella home ma anche in tutte le altre schede che hanno più schede appunto ravvicinate, più pagine ravvicinate, premiamo verso destra, tenendo premuto spostiamo il dito verso sinistra ed ecco che la pagina di destra viene visualizzata. È molto importante quando utilizziamo dei dispositivi touch la manualità perché un tap, quindi un tocco sul dispositivo singolo sarà diverso di un tocco sul dispositivo prolungato, quindi in questo caso vedete io ho fatto un tocco e non è successo niente se tengo premuto invece un tap lungo, succederà qualcosa, in questo caso mi si apre la finestra per modificare lo sfondo. Quindi abbiamo visto il tap singolo, può essere utile anche il tap doppio, quindi due tocchi sul nostro dispositivo abbiamo visto il tap prolungato, prima abbiamo visto anche lo sfogliamento da destra verso sinistra e da sinistra verso destra quindi teniamo premuto con il dito, sfogliamo direttamente trascinando sul dispositivo, sullo schermo questo movimento può essere utile anche per trascinare le icone, i simboli, in questo caso poi vedremo cosa sono ad esempio prendiamo questo che è il collegamento a un'applicazione, teniamo premuto finché questa non si modifica in questo caso diventerà più grande, vedete, e poi tenendo sempre premuto con il dito la possiamo spostare a destra e a sinistra in alto e in basso e sempre con lo stesso movimento, sempre tenendo premuto la possiamo spostare anche nelle schede vicine, come in questo caso, se vogliamo ad esempio modificare la posizione delle icone che abbiamo nelle nostre schede home abbiamo visto quindi tutti i gesti necessari per agire sul nostro dispositivo ovviamente tutto sta nell'esercizio, perché più vi abituate a fare questi gesti sul vostro dispositivo e più scoprirete funzioni nuove che magari sono nascoste ma passiamo adesso a vedere, come dicevamo prima, cosa c'è sulla home o nelle schede vicine gli elementi che troviamo in queste schede solitamente sono di due tipi quindi possiamo trovare questi simboli, queste immagini, che sono collegamenti di app vedete sotto il nome appunto dell'app a cui si riferisce, dell'applicazione l'app in generale è un programma del tablet o dello smartphone che ci permette di fare qualcosa le applicazioni le conoscete, le abbiamo viste anche in altri video vi lascio nell'info box la playlist dei video Android che sono stati fatti finora così potete dare un'occhiata il secondo elemento che possiamo trovare all'interno di queste pagine sono i widget in questo caso ne vedete due, uno sotto e uno più in alto e sono collegati alle diverse applicazioni quindi ogni applicazione avrà eventualmente collegati a sé dei widget se questa applicazione non è scaricata sul nostro dispositivo e installata non compariranno ovviamente i widget collegati a questa applicazione ma cosa sono nello specifico i widget? possiamo dire che sono uno scorcio all'interno di queste applicazioni che ci permette di vedere direttamente alcune informazioni fornite da questa applicazione il widget in basso ad esempio è collegato alla galleria e mi fa vedere in anteprima quali sono le immagini che sono all'interno della mia galleria il widget in alto invece è collegato all'applicazione impostazioni abbiamo il collegamento qui sotto dell'applicazione e mi fa vedere alcune impostazioni che sono dentro a questa applicazione e che posso gestire direttamente con un tocco dalla home o dalle pagine principali come avete visto prima sia per i collegamenti che per i widget possiamo applicare il movimento e lo spostamento quindi tenendoli premuti li possiamo trascinare all'interno della pagina per quanto riguarda le icone di collegamento con le applicazioni come in questo caso questo movimento ci può essere utile perché oltre a gestire e organizzare i collegamenti tra le varie pagine quindi spostandoli ad esempio dalla home in una pagina secondaria possiamo anche con questo movimento creare delle cartelle in questo caso io ho delle applicazioni che si riferiscono a tutta la gestione di Android quindi ne posso prendere una tengo premuto finché vedo che cambia leggermente aspetto e la trascino sopra a un'altra di queste applicazioni vedete che ci viene un'ombreggiatura nera e rilascio così si crea la cartella vedete che sono due applicazioni vicine posso portare anche la terza, quella che c'è sotto sopra a questa cartella per riunirle se poi tocco la cartella questa cartella si aprirà e posso segnare anche un nome in questo caso c'è cartella senza nome ma se tocco come avete visto si aprirà la tastiera io potrò andare a scrivere ad esempio Android e poi clicco su fine quindi tocco fine e verrà memorizzato il nome della cartella se schiaccio fuori da questa cartella si richiuderà e verranno visualizzate le miniature delle prime applicazioni che ho inserito se decido invece che un widget o il collegamento ad un'applicazione non mi serve più la prendo come abbiamo fatto prima la trascino verso l'alto l'alto scusate e comparirà una X che mi permette di cestinarla non comparirà nella home o nelle pagine vicine ma quello che è stato eliminato è il collegamento a questa applicazione l'applicazione rimarrà ancora installata all'interno del nostro dispositivo abbiamo visto quindi che possiamo organizzare ed eliminare eventualmente i collegamenti ma le applicazioni che non sono più nella nostra home dove le troviamo? le troviamo nella scheda applicazioni che solitamente è accessibile attraverso un'icona come questa che è composta da diversi quadrettini nello smartphone solitamente sono 9 qui in questo caso ne vediamo 6 quindi cliccando su questi quadrettini possiamo accedere alle schede delle applicazioni e dei widget ecco vedete in questo caso qui c'è l'elenco di tutte le mie applicazioni posso sfogliare anche queste schede perché se ho più applicazioni vengono organizzate su più pagine vicino poi ho anche le schede dei widget adesso le vediamo dove sono riuniti tutti i widget che possiamo inserire all'interno delle nostre pagine e come vi dicevo prima sono collegate le diverse applicazioni se vogliamo inserire un widget o un'applicazione è sufficiente tenere premuto su questo widget o l'applicazione finché non compare la home e poi posizionarlo dove meglio vogliamo e rilasciare abbiamo parlato dell'applicazione impostazioni che è questa che vedete qui con il suo collegamento l'icona solitamente è questa per i tablet per gli smartphone invece è una rotellina un ingranaggio ma la troviamo anche nella barra sottostante vicino all'orario se clicchiamo accediamo alle notifiche e vedete che c'è un'altra icona simile quindi clicchiamo ancora e possiamo vedere la scheda impostazioni ce ne sono alcune anche in questo caso in anteprima ma se tappiamo su impostazioni le apriamo tutte quindi possiamo vedere cosa possiamo fare nello specifico all'interno del nostro dispositivo come vi dicevo prima in questo caso c'è una ripartizione delle impostazioni particolare per categorie potreste avere una categorizzazione diversa anche all'interno del vostro dispositivo per me la prima è wireless e reti che raggruppa tutte le impostazioni rispetto alla connettività quindi in questo caso abbiamo le diverse tipologie di connessione io ho già attivato wifi se sposto questo pulsante posso andare su off e spegnere la connessione wifi altrimenti su on come vedete sulla destra mi comparirà tutta la lista delle reti a cui mi sono agganciata tempo posso selezionarne una in questo caso io sto utilizzando la prima che è quella di casa e vado poi a connettermi a questa rete lo stesso per quanto riguarda le altre reti continuando con le impostazioni abbiamo a disposizione le impostazioni riguardo al dispositivo quindi audio display e le altre varie impostazioni quelle che vediamo noi in particolare è l'impostazione relativa alle applicazioni che apre una scheda in cui sono visualizzate tutte le applicazioni che abbiamo installato sul nostro dispositivo e da qui possiamo anche disinstallarle vediamo sotto l'archivio interno quindi lo spazio in questo caso che abbiamo a disposizione per installare nuove app come vi dicevo prima abbiamo la possibilità di disinstallarle se gestiniamo il collegamento nella home non le disinstalliamo ma cancelliamo solo il collegamento da questa scheda invece possiamo disinstallarle quindi selezioniamo una delle applicazioni e clicchiamo tocchiamo il pulsante disinstalla e questo ci consentirà di iniziare la procedura di disinstallazione continuiamo con le impostazioni su personale abbiamo servizi di localizzazione ma ci interessa soprattutto sicurezza perché ci permette tra l'altro di rendere visibili o meno le password ma abbiamo anche la voce origini sconosciute che ci permette di rendere scaricabili e installabili quelle applicazioni che non provengono dallo store l'abbiamo visto in un video precedente poi abbiamo le impostazioni rispetto all'account in questo caso abbiamo subito il pulsante aggiunge account quindi non dobbiamo entrare in una scheda ulteriore questo ci permette di aggiungere account nel nostro dispositivo anche questo l'abbiamo visto in un altro video ma come vi ho detto vi lascio la playlist e poi ci sono tante altre impostazioni che possiamo utilizzare per personalizzare il nostro dispositivo e che vi consiglio di andare ad esplorare come dicevamo prima per finire vediamo nella barra inferiore alcuni pulsanti li chiamiamo così ma in realtà sono sempre icone disegni sul nostro dispositivo che ci permettono di agire sulle schede questo pulsante il secondo ci permette di tornare direttamente alla home quindi di chiudere tutte le schede che abbiamo aperto sul dispositivo se lo tocchiamo infatti vedete che le schede si riducono e non le vediamo più ma vediamo la home per ritrovare queste schede per vedere quindi tutte le applicazioni recenti e anche quelle aperte invece utilizziamo l'ultimo pulsante l'ultima icona che ci permette di vedere quali sono le icone le applicazioni che abbiamo aperto ed eventualmente di rientrare all'interno di queste applicazioni sempre nella barra inferiore poi abbiamo il disegno il tasto indietro che ci permette invece di tornare indietro di un passo all'interno della procedura in questo caso io sono partita da home e quindi se clicco su indietro tornerà ovviamente nella home sempre nella barra inferiore come abbiamo visto prima abbiamo in questo caso l'orologio il simbolo l'icona della connessione wifi e della batteria che ci dice anche il livello della batteria per ora non abbiamo notifiche ma potrebbero comparire sempre nella barra inferiore e se clicchiamo vediamo in questo caso sì le notifiche e possiamo accedere all'orologio con la data e quindi il calendario e anche nelle impostazioni come abbiamo visto prima poi ovviamente come dicevamo l'importante è fare pratica sul vostro dispositivo andare ad esplorare un po' queste funzioni e impostazioni e quindi personalizzare il più possibile il vostro dispositivo per renderlo il più adeguato ancora una volta possibile alle vostre esigenze grazie a tutti